Presidente, facciamo il punto della situazione sul fronte a mercato, tanto Palmiero, Perrotta, fronte a entrata, fronte a uscita, possiamo darli come affari conclusi? Beh, a meno che non strappano le carte, penso di sì, perché abbiamo già fatto tutta la documentazione, quindi è questione di ore. Per quanto riguarda Tutino, la strada è in salita, come si legge e si capisce? Ma io credo che il Napoli, Tutino, lo voglia testare bene e soprattutto voglia anche capire se non ci sia una possibilità magari di mandarlo in A a giocare. È evidente che se questo non dovesse succedere, chiaramente noi al ragazzo non glielo auguriamo egoisticamente, magari sì, se questo non dovesse succedere il Pescara c'è. E per quanto riguarda Pasquato, si è letto anche di questa soluzione sul fronte esterno, se non dovesse andare a buon punto, il fronte tutino, il fronte sottile, che poi dipende da dinamiche legate a Montella e alla Fiorentina. Pasquato è un nome? Spendibile. Pasquato è un altro di quei giocatori che sta da Pescara, ha fatto anche bene, con il quale abbiamo un ottimo rapporto. In questo momento non c'è nulla di tutto questo, però è sicuramente un giocatore importante. Sottile, il Borsino è in discesa in questo momento, circa un suo ritorno? Vale un po' lo stesso discorso fatto per Tutino, chiaramente noi ci auguriamo il contrario, i ragazzi è chiaro che si vogliono giocare l'opportunità della Serie A, però se dovesse andare a giocare, su Sottile penso che Pescara sia la destinazione gradita. Un po' troppi a centrocampo a questo punto, con l'innesto di Palmiero, se non esce nessuno, sono una decina i centrocampisti, anche se due, Ciocev e Melegoni, saranno a disposizione non prima di novembre. Adesso da qui alla fine del mercato ci sono ancora 45 giorni buoni, vedremo col tempo se ci sarà qualche possibilità di sfoltire un po', sì, altrimenti siamo a posto, io credo che il centrocampo del Pescara quest'anno sia ancora una volta il pezzo forte di questa squadra, anche se a me piace molto anche l'attacco e la parte difensiva, quindi al momento siamo forse qualcuno in più, può darsi, però vedremo nei prossimi giorni. Il Pescara fa dall'80 al 90% in questo momento? In questo momento io credo che il Pescara sia, insieme a poche altre, una delle squadre già quasi complete. Poi è evidente che, come dicevo prima, potrà capitare che qualche ragazzo chieda di uscire perché trova poco spazio, e siccome poi alla fine del mercato, lo sappiamo oramai bene, ci sarà spazio per qualche colpo dell'ultimo minuto, noi dovremmo essere pronti e soprattutto avere lo spazio per farlo. Voto al mercato fino a questo momento, il suo voto? Ma io non do voti, io dico che secondo me il Pescara sta facendo quello che può fare, cercando di farlo al meglio possibile e andando a prendere i giocatori funzionali. Poi il campo darà il voto, perché io posso dare tutti i voti che vogliono, ma poi quando vanno in campo e fanno risultati, i voti sono alti. Se non fanno risultati, i voti inevitabilmente si abbassano, quindi lasciamo perdere i voti e pensiamo a lavorare. Due cose, davanti le punte centrali adesso sono quattro, avete già pianificato un'uscita imminente oppure aspettate anche in questo caso? Non abbiamo pianificato nulla perché pensiamo di essere al completo, pensiamo di aver dato al mister quattro attaccanti tra giovani e meno giovani di buon livello per la categoria e poi strada facendo vedremo. E invece Campagnaro, aveva detto che deve parlare con il mister, è andato in ritiro, magari hanno già parlato, quindi farà ancora un anno da calciatore a tempo pieno? Io non ancora parlo, né con Campagnaro né col mister, andrò domani in ritiro per la prima volta, quindi parlerò con tutti e due dell'argomento, vedremo. Ecco, l'uscita di Perrotta non imporrebbe il reintegro di un giocatore senior, visto che poi le alternative sono al limite Campagnaro, che però ha i soliti problemi, insomma, presente intermittenza, e poi ci sono diversi giovani, lo stesso Bettella, fortissimo, ma è un giovane, poi Marafini e altri. Ma quelli 97, 98, 99 sono giovani solo in Italia, gli altri paesi fanno la Champions e qui sono giovani, quindi noi abbiamo, credo, 5 o 6 difensori centrali, se consideriamo anche che Elisalde nasce da difensore centrale, Mancino, e se consideriamo anche che Matteo Ciofani è all'occorrenza, poi ci può giocare, è una difesa che giocherà a quattro, quindi giocheranno a due, pertanto ci sarà spazio e tempo per far giocare tutti, non abbiamo questa necessità, questa fretta, è evidente che se qualcuno dovesse uscire poi si dovrebbe rimpiazzare, ma oggi non abbiamo questo problema.